Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Un nuovo breve videocorso, carino anche e soprattutto in questo periodo dell'anno, dedicato a tutti gli amanti dell'arte. Grazie al web, grazie alle formidabili risorse presenti in rete, possiamo veramente ammirare con un grado di dettaglio francamente inimmaginabile tra le più belle opere d'arte presenti in Italia. Saluto e ringrazio l'amico Albano Battistella, ricordo amministratore della pagina di divulgazione didattica su Facebook Zorin OS Education Italia, che mi dà l'occasione di rispolverare un sito web che avevo conosciuto in tempi non sospetti. Vi parlo di browser, quindi programma di navigazione alla mano, altadefinizione.com, mi raccomando con l'h di hotel davanti, quindi altadefinizione.com, come leggete nella barra degli indirizzi. Consultabile dunque da qualsiasi dispositivo, possiamo davvero andare oltre la cosiddetta alta definizione scoprendo i gigapixel, cioè andando in profondità all'interno delle opere d'arte, quali? Prendo ad esempio quelle presenti all'interno della galleria degli uffizi di Firenze, guardate come è facile consultare il portale alta definizione. Abbiamo una stringa, cioè una barra di ricerca circa a metà pagina, ma scorrendo verso il basso abbiamo francamente la possibilità di esplorare e consultare molte opere note. Guardate, mi cadono veramente, ecco, sotto gli occhi la cappella degli Scrovegni di Padova, di Giotto, la nascita di Venere del Botticelli. Proviamo a cliccare proprio su Sandro Botticelli, nascita di Venere, ed eccoci qui. Attenzione, non è necessario iscriversi per consultare l'iscrizione da cui l'iscriviti che osservate in alto è per ricevere una notifica via mail quando una nuova opera d'arte in gigapixel verrà pubblicata. Tre pulsanti di navigazione semplici, il pulsante con le quattro frecce del full screen, il pulsante al centro quadrato che posiziona ed allinea al centro l'opera, dopodiché mouse alla mano. Francamente possiamo anche utilizzare il cosiddetto pinch, il pizzicotto to zoom, se siamo su un dispositivo mobile. Ora io utilizzo la mia rotellina del mouse e osserviamo veramente, stiamo solo utilizzando, lo ricordo, un browser, consiglio Google Chrome e Mozilla Firefox e una connessione ad internet, entriamo nel quadro. Andiamo ad osservare gli stucchi, insomma una qualità veramente incredibile che consiglio non solo ai colleghi, ai docenti di arte e immagine, ma ai ragazzi, anche a chi per qualsiasi motivo non si possa o non ritenga di spostarsi e voglia comunque godere delle bellezze che il nostro paese è in grado di offrirci. Con un tocco sul pulsante ESC della tastiera si torna in una posizione di riposo e il clic sulla freccia verso il basso naturalmente consente di leggere una breve scheda descrittiva che come osservate ci restituisce il nome dell'autore, il soggetto, la data, eventualmente la tecnica e il luogo. Cercate sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea il videocorso su Google Arts and Culture, Arts and Culture, faccio lo spelling lo sapete, perché degno complemento di alta definizione con la risorsa di Google andiamo ad effettuare una visita virtuale all'interno dei meravigliosi luoghi, questa volta naturalmente di tutto il mondo, che ci mettono a disposizione questa bellezza. La bellezza ci salverà. Sì, sfruttiamo al meglio dunque la rete, godiamo delle opportunità che ci venga ad offrire. A presto, vi do sindora appuntamento al prossimo videocorso. Ciao da Andrea Cartotto.